Grazie Presidente, molto brevemente sono emendamenti che vanno ad aggiungere somme per manutenzione di scuole e quindi argomento importante che riguarda tutti e anche sui collegamenti biari. Vanno ad aggiustare un po' la manovra già di giunta, quindi sono di supporto perché sono delle somme che aiutano per la definizione realizzazione di interventi. Tutto qui, grazie Presidente.